Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale in apertura la chiusura della Pernigotti a Novi Ligure. In riferimento alle notizie pubblicate sulla società a seguito dell'annuncio della chiusura delle sole attività dello stabilimento di Novi Ligure, la Pernigotti SPA intende precisare che è intenzione dell'azienda dare corso all'esternalizzazione delle proprie attività produttive unicamente presso il territorio nazionale. Inizia così il comunicato stampa diramato oggi dall'azienda che continua come già ribadito anche in sede di confronto con le parti sociali nel rispetto della storicità del brand Pernigotti e con l'obiettivo di mantenere la qualità distintiva dei propri prodotti la società sta procedendo all'individuazione di partner industriali in Italia a cui affidare la produzione, coerentemente anche con l'obiettivo di cercare di ricollocare il maggior numero possibile di dipendenti coinvolte e perso aziende operanti nel medesimo settore o terzisti e a questo proposito la società ha fatto anche sapere che sta già dialogando con alcune importanti realtà italiane del settore dolciario ma intanto a Novi Ligure non si placa il malumore mentre i lavoratori continuano il loro presidio davanti alla storica fabbrica ma sentiamo da Chetti Porcello. Nonostante le buone intenzioni suona un po' come un De Profondis il comunicato che ieri sera la Pernigotti ha diramato alla stampa dove spiega una serie di azioni che intende intraprendere per cercare di limitare al massimo le conseguenze dell'annunciata chiusura dello stabilimento di Novi Ligure. Abbiamo presentato istanza di ammissione alla procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria per cento dipendenti nel periodo compreso tra il 3 dicembre 2018 e il 2 dicembre 2019 scrivono dall'azienda spiegando che la decisione è stata presa per far fronte alla crisi che la Pernigotti sta attraversando e che ha determinato un calo dei volumi di vendita con un correlato decremento del fatturato. Il piano preannunciato dalla società alle organizzazioni sindacali alla RSU prevede interventi sia di carattere economico che organizzativo. Nel dettaglio saranno ridefinite iniziative commerciali, verranno centralizzate le attività amministrative di back office e si procederà alla cessazione delle attività produttive presso lo stabilimento di Novi Ligure. Infine fanno sapere che la società farà il possibile per ricollocare il personale presso altre realtà dello stesso settore. Insomma, una finta carezza in un pugno. Intanto i lavoratori che da ieri presidiano la fabbrica di Viale della Rimembranza non sono lasciati soli perché tutta la città si è stretta attorno a loro con l'intento di far sentire ogni voce contro questa decisione che impoverirebbe Novi Ligure di un brand conosciuto in tutto il mondo ma soprattutto di una tradizione centenaria. Oggi in Comune si riuniranno i capigruppo per decidere la data di un consiglio comunale aperto mentre il senatore Alessandrino Federico Fornaro ha presentato un'interrogazione urgente al Ministero dello Sviluppo Economico affinché sia aperto al più presto un tavolo di crisi per richiamare soprattutto l'azienda alla sua responsabilità sociale e per verificare anche la possibilità di una cessione a imprenditori interessati a sviluppare in Italia sia il marchio che i prodotti. Stessa intenzione di Fornaro anche per un altro senatore Alessandrino Massimo Berutti che in una nota ha espresso la volontà di chiedere a Di Maio sia a conoscenza della situazione e quali sono le azioni che intende intraprendere per sostenere lo storico stabilimento novese. Intanto in attesa di risposte oggi la città si sente molto più triste e povera. Naturalmente della situazione per Negotti si è parlato anche a Confindustria Alessandria in occasione della presentazione dello studio trimestrale che fotografa l'economia locale ovvero l'indagine congiunturale. Sentiamo nel servizio. Il risultato di salute dell'economia locale indica una stabilità debole. Questo è quanto risulta dall'indagine congiunturale elaborata dall'ufficio studi di Confindustria Alessandria alla quale hanno collaborato 107 aziende associate. A illustrare alla stampa la situazione economica c'erano il presidente di Confindustria Alessandria Maurizio Miglietta, il direttore Renzo Gatti e ancora responsabile dell'ufficio studi di Confindustria Giuseppe Monighini. Il titolo della relazione economia stabilità debole dice che in uno scenario economico debole interno ed esterno le imprese attendono segnali di stimolo di crescita. Presidente Miglietta. Sì, ecco, in un periodo come questo diciamo che veramente le nostre imprese, ma non solo le nostre imprese, parliamo anche delle famiglie italiane, sono in una situazione veramente di attesa, oltretutto non solo dovuto alla situazione esterna, quindi a livello mondiale, ma anche quella interna. Insomma, stiamo aspettando delle risposte che tardano un po' ad arrivare. Parliamo di settori produttivi, per esempio. Allora, l'industria metameccanica per quanto riguarda la componente occupazione è stabile, non ci sono previsioni di nuove assunzioni comunque stabili e anche non si parla di cassa integrazione, fortunatamente. la chimica ha avuto una diminuzione dell'occupazione, ma senza, diciamo, dismissioni di forza lavoro per quanto riguarda le aziende in cui sono impiegati questo tipo di personale. La gomma della plastica, altro settore trainante, non assume ma non licenzia, dunque va bene così per l'ultimo trimestre di quest'anno. Ciò che è interessante è l'aumento dell'occupazione del settore alimentare. Siamo che per quanto riguarda la situazione nostra della provincia di Alessandria siamo ancora una provincia, diciamo, virtuosa, grazie all'eccellenza e possiamo permetterci di essere un gradino superiore alla media nazionale. A Torino si prepara la grande manifestazione pacifica che sabato invaderà le vie cittadine da parte del comitato che si batte affinché la TAGV non venga annullata. Oggi su Facebook la consigliera comunale grillina Viviana Ferrero ha pubblicato un post dal quale il sindaco Chiara Pendino ha preso le distanze, dichiarando che il pensiero della Ferrero non rappresenta quello dell'amministrazione, la quale da parte sua continua a dichiararsi aperta, ad ascoltare le opposizioni e a rispettarle. Nel post la rappresentante del Movimento 5 Stelle ha scritto che quella del no TAV, sì TAV, è una guerra, una guerra economica per i sì TAV dove si mettono capitali pubblici e ricavi privati, il miglior business degli ultimi 25 anni. Non aspettiamoci, ha proseguito la Ferrero su Facebook, tregue o cedimenti. Daranno battaglia convincendo disperati, anziani, disinformati, madamen salottiere, ci sono grandissimi interessi in ballo. E adesso invece parliamo dell'abruzzese Enrico Cerri che è il nuovo procuratore capo della Repubblica di Alessandria, ha assicurato tempestività nella giustizia rispetto dei diritti di imputati e vittime e ci racconta tutto Emma Cavagna. La giustizia per essere tale deve essere tempestiva. Sono le prime parole pronunciate ad Enrico Cerri, 58 anni, nativo della provincia di Chieti, il nuovo procuratore capo della Repubblica di Alessandria, insediatosi a Palazzo di Giustizia dopo aver prestato giuramento diritto davanti a un collegio giudicante. La cerimonia si è svolta in un'aula di udienza, presenti magistrati, il procuratore generale della Corte d'Appello di Torino, Francesco Saluzzo, che gli ha rivolto un caloroso saluto, prefetto, questore, comandanti provinciali di Carabiniere e Finanza, avvocati fra cui il presidente dell'Ordine Piero Monti, che gli ha assicurato piena collaborazione e lealtà. C'era anche Renato Valduzzi, che come consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura aveva espresso il proprio voto favorevole alla nomina del dottor Cerri. Il neoprocuratore subentra Mario Donofrio e collocato in pensione. Arriva da Bologna dove era sostituto e dove tanto e bene ha lavorato. Prima di giungere nel capoluogo emiliano è stato pubblico ministero a Modena e nella sua lunga carriera ha seguito inchieste principalmente di terrorismo, partecipando ad esempio alle indagini sull'omicidio del professor Marco Biagi, sugli anarchici del Five Free, su operazione antica mora. Ha fatto parte del PUR inquirente in un caso contro l'Andrangheta emiliana ed è stato lui a incriminare alla fine del 90 lo sciatore Alberto tomba il suo entourage per frode fiscale. Si è impegnato a improntare il proprio ruolo al massimo rispetto dei diritti degli imputati, tutelando le vittime e tutti gli utenti. Eovada continua la mobilitazione delle associazioni sindacali contro la limitazione di orario dello sportello IMS al sitino organizzato da CGL Cisle Will e rappresenta per noi Maurizio Silvestri. Allora tre minuti oggi dedicati qua a OVADA, siamo nello specifico in via Cairoli e mi sono trovato qui un banchetto con delle persone, della gente che cosa chiedono a OVADA? Perché siete qua stamattina? No, noi come CGL Cisle Will chiediamo l'aumento dell'apertura dello sportello dell'IMSS che oggi viene aperto soltanto il mercoledì mattina e chiediamo invece l'apertura dello sportello per tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Anche perché io vedo che qua ci sono sempre code infinite, la gente ha bisogno di saper, di informarsi. Cioè OVADA, diciamo centrozona, gravitano su OVADA 16 comuni con circa 30.000 persone quindi è evidente che c'è la necessità e l'importanza di avere questo servizio con lo sportello aperto diciamo tutta tutta la settimana. C'è da far notare anche un'altra cosa no? Che c'è la carenza anche di servizi sui trasporti per recarsi diciamo diciamo verso Adressandra, verso Acqui. Poi bisogna pensare anche a chi lavora dentro questi uffici perché in un giorno solo come fanno con tutta questa gente poi si sentono dire di tutto perché insomma io sono un cittadino anch'io quindi so come funziona. Vedo la gente quando esce da questi uffici che è nervosissima perché ci ho aspettato delle ore però con una giornata sola di più non possono fare. Esatto infatti i dipendenti pubblici che io rappresento come CISL si sentono stretti in questa difficoltà di voler dare un servizio decente alla popolazione e poi la difficoltà di sostenere un orario che è veramente difficile da sostenere. Quindi chiediamo appunto che si sensibilizzi un pochino la possibilità insomma di aprire, di dare più apertura e più orari anche ai dipendenti in modo che non si creino più queste frizioni tra utenza e dipendente pubblico che cerca di sostenere questo servizio. Con questo volantinaggio voi riuscite a convincere? Vedo la gente si ferma e apprezza questo? Sì diciamo che la gente è molto molto interessata perché comunque finalmente qualcuno viene a loro fianco a combattere affinché una comunità non sia lasciata diciamo nel dimenticatoio. Grazie e spero che questo si faccia una cosa veloce e che si concluda presto. Con voi ci vediamo i prossimi tre minuti. Grazie. Illustrati dal Vescovo di Alessandria Guido Gallese i tre momenti diocesani di novembre ovvero solennità del Patrono San Baudolino, pranzo dei poveri, beatificazione di una suora che operò in Alessandria con spettacolo in suo memoria domani sera nella chiesetta di San Dalmazzo. Ci racconta Emma Camagno. La giornata del povero, la beatificazione di Maria Clelia Merloni, una religiosa che visse anni ad Alessandria e ad Alessandria Cella, casa madre della sua congregazione religiosa e la ricorrenza di San Baudolino. Sono i tre eventi diocesani del mese di novembre. Li ha illustrati il Vescovo Guido Gallese. La giornata del povero è stata voluta da Papa Francesco e serve per portare i poveri al centro della nostra attenzione. La cosa strana nella chiesa è che noi abbiamo questa visione della povertà un po' differente da quella del mondo Per cui Papa Francesco ci sta dicendo che i poveri in realtà sono una ricchezza, non delle persone a cui dare semplicemente dei beni nostri ma sono persone che non avendo beni terreni comunque tengono una ricchezza spirituale. Sono stato alla beatificazione di madre Clelia Merloni, una figura di una donna che ha scritto qua in Alessandria la regola della sua comunità, della sua congregazione e ha vissuto tanti anni qua trovando anche tante difficoltà all'interno del suo ordine. Un esempio di grande dedizione al Signore, di santità, di pazienza nelle difficoltà, nelle prove, nelle persecuzioni. A San Baudolino mi ha fatto molto specie il fatto che noi Alessandrine abbiamo come patrono un uomo che era un eremita. È una figura che dobbiamo riscoprire e che deve farci riflettere sull'opportunità per tutti noi di dare degli ampi spazi al Signore per il silenzio, per la riflessione e per il rapporto con Lui. L'azienda speciale Multiservizi Costruire Insieme di Alessandria presenta il suo nuovo logo all'insegna della cultura declinata a 360 gradi e della bellezza che come diceva lo scrittore lustro Dastoyersky salverà il mondo. Braccio operativo di Palazzo Rosso, la squadra di Costruire Insieme, si rifà il look e rilancia una serie di iniziative. Sentiamo da Alessandria Dallacato. Il segno dell'Ok che dà forma alla CD culturale, il nuovo logo dell'azienda speciale Multiservizi Costruire Insieme di Alessandria, è un'esplosione di positività, di colori, di gioia. Un logo giovane, rapido e ammiccante verso un'idea di cultura a 360 gradi. Così deve essere la cultura, è un'opera di coerenza. Il progetto culturale di questa città, la valorizzazione del suo patrimonio, i suoi musei, le sue opere d'arte, deve essere qualche cosa che non deve suonare come la costruzione del cimitero degli elefanti, ma deve suonare come qualche cosa di sereno, di allegro, di positivo e di estremamente attrattivo. Entriamo nello specifico, nel dettaglio perché, al di là appunto della comunicazione visiva, ci sono già appuntamenti importanti da questo fine settimana con San Baudolino in città e quindi l'apertura e le visite nei musei cittadini e poi un appuntamento a inizio 2019 molto importante. Sì, esattamente, ci saranno diversi eventi ancora anche da annunciare che sono in preparazione e quindi ve li sveglieremo appena possibile. Alcuni invece sono già in programma, appunto come quelli a partire da San Baudolino, quindi gli eventi importanti della città, noi saremo sul pezzo, quindi offrendo tutte le nostre possibilità e a Marengo all'inizio di dicembre sicuramente ci saranno degli eventi con figuranti, spettacoli che attireranno turisti che tra l'altro hanno già aderito a questa iniziativa e quindi arriveranno da fuori città. E poi da gennaio un progetto molto più importante che prenderà vita, cioè il riallestimento delle sale dell'ultimo piano di Marengo che diventerà un vero e proprio spazio espositivo che si chiamerà probabilmente Marengo Arte e offrirà per tutto l'anno mostre molto importanti che quindi andranno anche a rilanciare lo stesso museo. Quella dell'azienda speciale Multiservizi Costruire Insieme è una grande squadra, formata da quante professionalità? Sono 34 dipendenti dell'azienda speciale suddivisi in diversi uffici a seconda ovviamente delle loro competenze. E parliamo adesso di sport dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che è stata rimandata alla gara col Valencia per una Juventus che ieri sera contro il Manchester United ha sciupato negli ultimi minuti il vantaggio più che meritato ottenuto grazie ad un capolavoro di Ronaldo. Oggi torniamo a parlare di Lega Pro nella pagina sportiva del nuovo direttivo della Lega Pro il nuovo presidente è stato eletto l'ex segretario generale Francesco Ghirelli suo vice invece è l'attrice Cristina Capotondi e Jacopo Tognon ma subito dopo la pagina sportiva avremo anche il meteo. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime